e allora cari amici e amiche che invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video e senza mai dimenticare di scaricare dal link in descrizione all'applicazione numero 10 cari amiche e cari amici dicevo ci siamo ci siamo il momento che non volevo avvenisse mai cioè l'addio di slatan ibrahimovic non so se al calcio ma certamente al milan domani è arrivata la comunicazione ufficiale tanto è vero che nel video precedente non avevo ancora queste comunicazioni ma io posso sempre cambiare i titoli non posso cambiare i video ma posso certamente cambiare il i titoli e il titolo era proprio quello relativo all'addio di slatan ibrahimovic titolo figlio di una comunicato del milan domani alla dopo la partita ci sarà un saluto a slatan ibrahimovic non so se ci saranno previste probabilmente delle maglie che indosseranno tutti i compagni signori è arrivato il momento un momento che io non avrei mai voluto vivere perché io vi avevo detto un anno prima prendendo i vostri rimbrotti che slatan ibrahimovic sarebbe arrivato al milan perché così mi avevano detto in sede poi l'ho visto vi ricordate ho visto la partita del derby di los angeles dove lui volevo capire quale sia quale fosse la sua forza segnò un gol regalò un assist non sbagliò un colpo di testa uno spettacolo straordinario e il milan e il milan avevo messo tanti post su instagram dicendo prendiamolo prendiamolo è forte milan non è che abbia dato retta a me indubbiamente non ha dato retta a me ma sono contento che poi l'abbia preso e dopo averlo preso il slatan ibrahimovic ha risposto alla grande aiutando il milan a crescere a giocare un 2020 fa straordinario ad arrivare secondo dietro l'inter e finalmente ritornare in champions league fu una grande festa a bergamo una delle più belle anche se io ho dovuto rimanere fuori perché non c'era posto uno dei momenti più tristi deprimenti della mia vita a vedere sentire la partita gli rumori dei fortunati che erano dentro che è capitato a tanti di voi e quella volta capitò anche a me ma sapevo cosa cosa avreste che cosa avevate provato in quel momento l'ho provato anch'io poi la cavalcata dello scudetto dove lui non ha potuto aiutare ma lei ha aiutato i compagni con il suo esempio con le con il suo siringa di liquido da togliere tutte le volte dal ginocchio sembrava si è operato per poter continuare ancora martoriato il suo arto è ritornato c'ha illuso che potesse rendere assegnato un gol a udine in una partita la più brutta secondo me il punto più basso della del milan di questa stagione lo dico sempre perché quando segni il gol l'arbitro anzi quando il portiere ti pare al rigore l'arbitro poi va a verificare il VAR e te lo fa ribattere Ibrar segna il gol finalmente del pareggio dopo un primo tempo brutto e il pareggio dura due minuti fu un momento più triste Zlatan va in nazionale quello forse è stato il suo errore si rifa male ritorna e poi nel riscaldamento contro il Lecce questa è la cronistoria delle cose tristi ma poi ci sono una delle ultime punizioni l'ha segnata lui a Roma oppure un gol fantastico col Genoa il gol bellissimo a Reggio Emilia annullato per un piccolo fuori gioco per pochi centimetri di fuori gioco di testa ed era un apoteosi e ci ha riprovato non ce la fa io non so ripeto se darà l'addio al calcio o darà l'addio al milan egoisticamente mi augurerei che desse l'addio al calcio dicono in negli stati uniti dicono sempre che bisogna lasciare la festa quando c'è ancora gente cosa vuol dire che bisogna avere la forza di ritirarsi quando si sta ancora bene purtroppo non sta capitando così a Ibra non voglio assolutamente pensare che sia il quel momento quando scende dalla scaletta degli spogliatoi il momento ultimo di Ibra infatti domani tornerà saluterà la sua gente ci ha fatto vincere un campionato il 2011 insieme ai suoi compagni ad allegri l'anno dopo abbiamo perso e sappiamo perché lo scudetto dei di muntari per capirci poi è ritornato ci ha riportato ancora in champions league a vincere lo scudetto arrivare secondi a giocare un 2020 quindi io sarò eternamente grato al mio idolo Zlatan Ibrahimovic ci sono quelli meno più razionali di me ma direi anche più meno meno riconoscenti di me che si basta si basta nulla Zlatan Ibrahimovic ci mancherà mancherà il suo spirito la sua forza rimarrà nel milan non lo so il milan mi sembra che abbia già ben occupati tutti i ruoli non so che ruolo si possa ritagliare per Zlatan Ibrahimovic però però domani io mi auguro che possa pur non segnando come Ancelotti due gol due gol come segnò Ancelotti al Verona nella sua ultima parita di San Sino nel 92 io mi auguro che Zlatan Ibrahimovic domani possa assistere a una grande partita a una grande partita del milan a una partita straordinaria del milan che vinca contro il Verona e si va da 70 punti non so se basterà per arrivare terzo perché dipende anche dei risultati vorrei che almeno riuscisse ad agguantare o a superare la Juventus in maniera tale che il nostro quarto posto non è solo figlio dei tribunali ma figlio del campo come merita il milan per prendere un bel 6 e mezzo 7 in uno scudetto è stato molto onesto oggi Stefano Pioli quando ha detto beh signori è stato generoso Maldini a dare 8 io darei 7 che era il voto che io volevo e prendevo a scuola quindi questo è un omaggio veloce qui da Parma sono a Parma sono venuto a vedere Parma Cagliari Parma e ricordo che diede un passaggio meraviglioso a Revic per una vittoria del Milan quindi ha lasciato la sua la sua griffa anche qui a Parma Parma e non dimentichiamo e lasciò una sua griffa in questo caso Nerazzurra quando Mancini pur essendo malato con dei problemi disse Zlatan ci serve il tuo apporto la fece un grande regalo all'Inter però Parma è anche una piazza che ricorda ovviamente Zlatan Ibrahimovic io mi auguro che il Milan dicevo riesca a battere il Verona il Milan schiererà la sua formazione migliore ovviamente potrebbe essere l'ultima partita di addio l'ultima partita la parita di addio anche di Diaz vedremo un altro giocatore che io non riesco a capire come non si possa essere riconoscenti nei confronti di Ibra e si sia così aridi si basta come se fosse un ferro vecchio io non riesco io invidio queste persone che non riescono a usare sempre la razionalità e mai l'emozionalità che brave a me piacciono le emozioni le emozioni che mi ha dato anche Diaz le emozioni che mi ha dato Diaz che ha dato sempre il cuore signori trovare giocatori che danno il cuore è fondamentale il Milan con Ibra neanche parlarne ma con Diaz il Milan vince viene avanti soffre supera gli ostacoli perché tutti i giocatori hanno un grande un grandissimo cuore una grandissima coesione l'ha detto Piole nella conferenza stampa io invidio io amo i miei giocatori perché danno tutto e io sono sempre riconoscente ai giocatori quindi Milan domani giocherà con Mignan che è rientrato sei mesi senza Mignan e siamo ancora a fare i primi quattro è incredibile è incredibile siamo a destra con Calabria il capitano che vorrà dare un omaggio a Zlatan a sinistra c'è Teo Hernandez i centrali sono Tomori e il giovane ciao che non ha potuto gustare essere di fianco a Zlatan Ibrahimovic e a prendere da Zlatan Ibrahimovic a centrocampo Ottonali e Krunic a destra a destra giocherà Messias a sinistra Leao e ne ha parlato benissimo Leao dell'esperienza con Krunic là davanti Giroud con dietro appunto Brian Diaz questa sarà la formazione che affronterà il Verona in una partita ancora una volta emozionante una delle mille emozioni che ci ha regalato nella nostra vita il Milan dovremmo abituarci a non avere più Zlatan Ibrahimovic vediamo se il Milan riuscirà a trovare una collocazione a Zlatan Ibrahimovic o Zlatan Ibrahimovic ma io egoisticamente non me lo auguro vado a giocare da qualche altra parte ma io spero di no se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegrani